un primo piatto semplice quanto buono gli spaghetti con peperoni e formaggio spalmabile sono cremosissimi e buonissimi trita grossolanamente mezza cipolla pulisci i peperoni eliminando i semi io ho preferito quelli rossi tagliali poi a piccoli pezzi in una padella metti un giro d'olio unisci la cipolla e lasciala appassire aggiungi i peperoni sale e pepe e cuoci qualche minuto aggiungi il formaggio spalmabile rendilo più cremoso aggiungendo un po' d'acqua di cottura in cui stai lessando gli spaghetti profuma con del prezzemolo tritato aggiungi gli spaghetti che hai scolato ancora al dente e fai saltare qualche minuto aggiungendo ancora un po' d'acqua di cottura messa da parte e voilà grazie grazie grazie